Insegnare ad amare la poesia ai ragazzi, questo è sostanzialmente il scopo di questo progetto che è stato presentato oggi. Sappiamo tutti poco? Assolutamente sì, ancora meno. Non ho la più palida idea, perché anche io andrò a scoprire quello che sarà questo progetto. Però diciamo che la poesia non ha tempo, non ha età, quindi scoprire che dei ragazzi giovani riescono ad appassionarsi, anche se scolasticamente hanno fatto una bellissima cosa facendo questa composizione, fa ben pensare che dentro abbiano qualcosa da dire e speriamo che riescano a dire nel modo più spontaneo e bello possibile. Quindi sicuramente questo progetto non porterà che bene, per cui andrò a scoprire anche io di cosa si tratta. Grazie per avermi coinvolto in questa storia. Ciao!